Il fennel di questa macchina è per uscire due coppie di espresso. Ma con alcuni tipi possiamo uscire solo una coppia con un espresso perfetto. Dobbiamo uscire un po' più fina, una coppia. Tamperemo un po' più forte. Ora vedete che solo la metà del filtro è pieno. La macchina è pronta per uscire. Abbiamo uscire un po' di acqua di acqua. Dopodiché la parte del filtro è pieno. Prendiamo il filo di acqua. Prendiamo la coppia. Prendiamo che il fennel di griglia si tratta. Ora è pronto e possiamo uscire. In questo caso il GRTML è ok. Prendiamo la coppia di espresso. In questo caso, quando riusciamo il fennel, ovviamente la parte che non era piena di fennel ha acqua. Questo è perché abbiamo usciuto solo un po' di acqua, quindi la parte che resta piena di acqua. Ma non è un problema della macchina. è un problema della macchina.